...cevano i piccoli, altri vivevano un branco ed altri ancora cacciavano il gruppo. In poco parole, grazie alla loro versatilità, senza la quale non avrebbero potuto dominare il pianeta così. Non ce l'ho il succo. questo tirannisao ha aiutato il suo piccolo a sopravvivere dalla sua potenza e forza avverranno poco di fronte a ciò che sta per accadere un evento che nessuna creatura sarà in grado di affrontare il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info